Continua a far discutere la composizione della prossima giunta regionale, il PD di Lecce, e in pressing sul Michele Emiliano e il segretario regionale La Carra. Nel Salento il Partito Democratico ha ottenuto un risultato notevole all'ultima tornata elettorale. Così, come afferma il segretario Morciano, è tale impegno non può essere non riconosciuto in sede di composizione del nuovo Consiglio regionale. La polemica si alza in seguito alle prime voci che escono dal Palazzo della Regione, in cui al PD di Lecce dovrebbe essere assegnata la presidenza del Consiglio regionale, che dovrebbe essere affidata a Loredana Capone. Una scelta che non soddisfa il segretario Dem Morciano, che vorrebbe assegnato un altro assessorato ad uno degli altri due eletti, Sergio Blasi e Donato Metallo, che secondo le prime indiscrezioni al momento rimarrebbe fuori dalla partita. Il tutto a discapito di Alessandro Linoci, uno degli eletti con più voti nell'ultima tornata elettorale, che potrebbe essere indicato come prossimo assessore regionale in rappresentanza del territorio salentino, togliendo proprio un posto ad uno degli eletti del Partito Democratico. Una patata bollente che il governatore di Puglia, Michele Emiliano, dovrà cercare di risolvere senza alterare gli equilibri interni tra il PD Leccese e il territorio salentino. Grazie a tutti.